Una settimana di eventi, sette giorni dedicati solo ai bambini, torna a Napoli la giornata mondiale del gioco e durerà una settimana. Primo appuntamento in piazza Dante, dopodiché la manifestazione si sposterà in altre location, come la villa comunale, per chermesse di giochi, laboratori ludici, sperimentazioni, letture e divertimento. Sono oltre 30 le attività proposte dagli organizzatori, coordinate dalla cooperativa sociale Progetto Uomo per il progetto Una città per giocare, promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli. Il tema di quest'anno è gioco, identità e partecipazione. Coordinatrice dell'iniziativa è Viviana Longo. L'anno scorso non ci siamo fermati, abbiamo fatto un'attività diffusa con i gessetti per dare traccia dell'infanzia ai bambini nonostante la pandemia e ci siamo riusciti. Quest'anno invece ritorniamo in grande stile, in gran forma. Faremo una settimana dedicata alla giornata mondiale del gioco proprio per dare la possibilità a tutti i territori di partecipare e quindi tanti piccoli eventi. I bambini e le famiglie sono tantissime ed hanno già aderito a quasi tutti gli appuntamenti. Basta iscrivere una mail a info-unacittapergiocare.it e prenotarsi. Tutti gli appuntamenti sono sul sito unacittapergiocare.it o sulla pagina Facebook e basta contattarci e capire se ci sono ancora appuntamenti a cui poter partecipare.